Sono stati accesi ieri sera i nuovi fari a LED all'interno del campo da calcio di Bellocchiafano, gestito dall'Associazione Sportiva Tre Ponti. Una riqualificazione totale dell'impianto di illuminazione con l'installazione di 4 nuovi pali alti 16 metri e compresi di un basamento in cemento di 2 metri per 2. 24 in totale i proiettori a LED allacciati da 1000 Watt e 6 per ogni sostegno. Altre tre luci invece sono state fissate nel secondo campo da calcio a lato mare. Angelo, quali sono stati più o meno i tempi della realizzazione? Molto ci ha voluto un paio di mesi per fare tutto, però abbiamo incontrato bene, non ha mai piovuto, è stato un buon lavoro. Io sono molto soddisfatto, prima di tutto perché ho la sede qui a Bellocchi, il capannone di Bellocchi. Il lavoro è stato fatto a Bellocchi, perciò mi sento come una parte integrale dentro. Poi io con il Comune di Fano sinceramente ci lavoro molto bene, perché oltre a questo ho diversi appalti. Un nuovo intervento che permetterà ai giovani di giocare anche nelle ore notturne con una buona illuminazione su tutto il perimetro del campo. La bella realtà dei bei gruppi di giovani, questo specialmente la Juniors che è partita quest'anno con 25 ragazzini, ragazzini perché parliamo di età tra i 16 e i 18 anni, e questo è importante che fanno un'attività sportiva. Io ci tengo molto, specialmente ai giovani, perché in un periodo di età particolare, sappiamo che a quell'età bisogna stare molto attenti. Chi fa dello sport è molto importante, perciò vederli qua, allenarsi come poi vedete alle mie spalle, sia la Juniors sia la prima squadra, e questo mi dà tanta soddisfazione. Un intervento reso possibile grazie al bando che il Governo ha dedicato ai vari comuni italiani. Per questo impianto, infatti, sono stati investiti 70.000 euro. Il Comune di Fano ha scelto di investirli qua, ha scelto di investirli qua per sistemare un impianto elettrico che comunque andava rivisto, ma soprattutto per aiutare in maniera concreta le associazioni sportive, partendo appunto da questo campo sportivo, perché effettivamente il cambio di tecnologia, dalla vecchia tecnologia a quella nuova LED, porta un risparmio concreto per le tasche anche dell'associazione sportiva. Purtroppo il Covid ha allontanato tanti ragazzi dai campi da calcio, nel frattempo noi abbiamo lavorato e il risultato del lavoro oggi si vede, si vede molto bene con questa luce, perché abbiamo sostituito sia le luci, sia i pali, sia l'impianto e quindi ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato, compresa la ditta esecutrice dell'appalto Bartolucci Angelo del Centro Luce e siamo davvero contenti e siamo sicuri che questo è il primo step di tanti passi che faremo per migliorare altri campi della città di Fano, renderli più vivibili e più visibili come questo.